Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video e buon inizio settimana, finalmente un po' di verde sui mercati cripto, dopo un disastroso weekend ed una disastrosa settimana abbiamo fatto il video ieri ragazzi per analizzare tutta quella che è la situazione attuale, ma oggi facciamo un'altra cosa, andiamo a guardare la questione legata al breve periodo, quindi non più l'orizzonte temporale, la macrovisione come abbiamo fatto ieri ragazzi, come vi ho spiegato nel video di ieri appunto come fare, cosa fare durante queste fasi e quali sono le cose importanti insomma da tenere a mente, andiamo a concentrarci su quello che è invece la fase ciclica del mensile, oggi è un video un po' per unire tutti quelli che sono i puntini di questa situazione nella generalità, tutto quello che ci siamo detti nella settimana scorsa di questa fase di chiusura del ciclo annuale, potentissimo ciclo annuale che non mi aspettavo così forte, avevo sempre un'idea di un target massimo su bitcoin intorno ai 40-38, invece addirittura è arrivato in swing sui 30 girandoci intorno, non è alla fine una grande differenza di target perché si tratta intorno al 20% e sostanzialmente questo nelle cripto ragazzi è abbastanza normale, però mi aspettavo un po' di robustezza in più, io stesso diciamo ero un po' impreparato a questa volatilità immensa per questa fase ciclica, però come si sta adesso sui mercati ragazzi? I giochi sono stati fatti, ormai eravamo già con l'idea generale di questa fase, quindi tutto quello che è legato alla precedente gestione di tutte le posizioni andava fatto precedentemente, quello che va fatto adesso è prepararsi alla futura fase, allora in questo video cerchiamo di gettare le basi per fare esattamente questo, ma prima di andare avanti vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, ovviamente ragazzi lasciatevi il mi piace, mi piacciono anche molto le discussioni che stiamo facendo, vabbè alcune sono inutili come sempre, ma ci sta ragazzi in queste fasi, ci mancherebbe, siamo veramente tanti, quindi ognuno c'è la sua idea, molto spesso io apprezzo anche chi scrive strombellerie perché mi dà anche un'idea generale che magari non è la mia visione, e posso migliorare sempre i contenuti ragazzi, quindi sono molto contento anche dei vostri commenti, lasciatemi un'idea generale di come state agendo voi con questa situazione, diciamo cosa state andando a combinare ragazzi, va bene, allora da un punto di vista pratico andiamo ad unire i puntini, allora come si fa in questo caso ragazzi, siamo in una fase di chiusura del ciclo annuale, diamoci un obiettivo, è quello che ho detto questa mattina nella mia academy, poi credo tra le altre cose ragazzi di fare un video di approfondimento, ovviamente molto più tecnico, che pubblicherò in questo caso anche sul mio canale telegram, sarà lo stesso video che pubblico in academy praticamente sempre, però in questo caso lo pubblico anche sul canale telegram perché come vi avevo detto, cercherò di essere più chiaro possibile anche sulle mie posizioni, quello che sto facendo io eccetera, quindi iscrivetevi a gratuito il canale telegram ragazzi, ok, così non mi assillate con la questione, è gratuito o non gratuito, trovate il link in descrizione, allora come si fa a ragionare sul prossimo ciclo? Ragazzi, la chiusura dei cicli annuali sono chiusure di cicli molto importanti, danno il via a fasi di volatilità abbastanza intense, però come sempre non sono tutti uguali, quindi non possiamo idealmente costruirci un ciclo standard e dire ok, la chiusura annuale fa questo e poi fa questo, non è così, se fosse così ragazzi siamo tutti miliardari, ok? Quindi quello che però abbiamo come idea è la fase dove siamo, noi siamo in una fase in cui il mercato cerca il suo minimo, l'ha trovato, l'ha già fatto, questa è la vera domanda ed è il problema proprio da andare a risolvere in queste settimane, allora oggi andiamo a gettare le prime bansi, cioè andiamo ad analizzare quelli che sono i cicli più piccoli, perché l'unico modo per capire se ha fatto la chiusura di un ciclo annuale ragazzi sarà aspettare un mese, due mesi, quindi da un punto di vista operativo di trading o di investimento non ci serve a una beata, ok? Ok, questo è il discorso perché se noi aspettiamo di avere la conferma ufficiale della chiusura del ciclo annuale passa un mese almeno e questo con la volatilità delle cripto non ci lascia molto spazio, ecco perché i mercati delle cripto in particolar modo ragazzi si necessitano che voi siate un po' formati anche sui principi fondamentali del trading, perché gestire in old position questo tipo di oscillazioni è estremamente complesso soprattutto per i neofiti, perciò un tantinello andare ad avere quelle due idee generali di che cosa può fare un mercato quando inverte il trend è sempre meglio averle, ok? In questo caso, ma perché appunto ragazzi perché avete visto meno 60 con un'inversione di breve periodo e queste sono le cripto, adattatevi a questo mercato, quindi o abbracciate questa logica oppure cavoli a mani, quando io vi dico guardate sempre il rischio, avere le idee focalizzate sulla riduzione del rischio, mi rivolgo a queste cose ragazzi, ovviamente non è una cosa che vedete ogni giorno e ci mancherebbe pure, sarebbe un disastro, è una cosa che vedete una o due volte all'anno e questo è il problema però, è per questo che io vi dico sempre fate attenzione, non andate in leva, usate le protezioni, non vi esponete troppo, non perché bisogna essere diciamo i grilli parlanti, non è per questo, è perché poi avvengono questo tipo di situazioni. Allora, nel breve periodo il mercato, la scorsa settimana ho detto nella mia academy, quando abbiamo toccato i 30, ho detto ragazzi, ho fatto un video, quello che magari pubblico oggi per tutti, perché la italiana abbiamo fatto il classico video mio di analisi e gli ho detto, il mercato tenterà nella prossima settimana di rompere i 30k, questo è impossibile, ho detto, ma possibile nel mercato che non è così, però è molto probabile che lo faccia, ok? Perché? Perché i mercati sono così, questi sono attenzialmente invece di natura ripetitiva, che se avete anni e anni di esperienza avete imparato a comprendere, quando c'è uno scivolone pesante i mercati tentano sempre di vedere se hanno trovato il loro livello di supporto e questo sta facendo Bitcoin, sta tentando, in questa settimana l'ha fatto e continuerà probabilmente nei prossimi giorni non lo vediamo, di trovare il suo appoggio, tutto quello che vedete è una conseguenza di Bitcoin, il problema è, ci sono le altre, sono più forti, sì, ieri abbiamo visto la Dominance ragazzi, vi ho detto il pericolo che si ha in questa fase sulla Dominance, possiamo effettivamente assistere a qualche giorno, io non vorrei che sia così, ma non me lo fido questo mercato da certi punti di vista e quindi mi preparo al peggio per essere preparato già a quello che sto per affrontare ragazzi, bisogna essere preparati prima e allora ieri vi ho fatto il video sulla Dominance, andatevelo a vedere perché è fondamentale, altrimenti non capiamo nulla di quello che stiamo facendo, va bene? Ok, nel momento in cui però poi io devo andare a capire, inizia il nuovo ciclo annuale sì o no? Che cosa faccio? Bisogna scendere e andare sui cicli inferiori, quindi prima cosa, per iniziare un nuovo ciclo annuale deve partire un nuovo ciclo settimanale e un nuovo ciclo mensile, che è quello che noi vediamo sempre nel video del lunedì, quindi oggi andiamo a fare il punto sui cicli mensili di Bitcoin e di conseguenza, vedremo anche Ethereum, vedremo anche BNB ragazzi, però di conseguenza andiamo a ragionare su un intero mercato, non possiamo analizzare tutte le altcoin e non ha neanche senso perché in questa fase, soprattutto nella chiusura dei grandi cicli, gli strumenti finanziari si sincronizzano ragazzi, la stessa cosa è relativa al mercato hold, fa lo stesso il mercato hold, quando i cicli forti vanno in chiusura, tutto è sincronizzato, perde qualsiasi cosa, c'è solo chi perde di meno, ma non c'è nessun altro intero, lui non perde USDT o USDC, ok? Perché sono stable, ma al di fuori di questo il resto non cambia ragazzi. Allora, in questi giorni c'è e ci sarà volatilità, farsi break sopra e sotto, ok? Questo è il vero problema, quindi se vi piace ballare in questo mercato, questo è il momento giusto, se vi piace imparare le cose, ragionare, guardando un open mind per cercare di capire come funzionano i mercati, questo è il momento giusto, le bastonate che vi dà un mercato in questa fase, vi insegna tante cose. Se voi volete stare sereni e tranquilli e siete ansiolitici, non va bene. Ok, ve lo dico in maniera molto chiara perché assisterete a pump and dump, perché è normale in queste fasi, sono le fasi che ho definito questa mattina di snodo, le fasi di snodo da un punto a un altro, di chiusura di un ciclo annuale, sono volatili ragazzi, sono bruttine, piene di problemi, piene di rumore, questo è il discorso, non vi aspettate che il mercato prende, riparte, tutto rosa e fiori, niente si è visto, non sarà così, o almeno il 90% dei casi non è così, quindi a meno che non ci vada proprio di lusso, questa cosa non la vedremo. Allora, andiamo a ragionare sui cicli mensili perché se becchiamo la partenza, in questo caso avevo detto becchiamo, in dialetto, se prendiamo la partenza del ciclo mensile di bitcoin, probabilmente andiamo a cercare di salire sul ciclo annuale. E questo è il mio prossimo obiettivo, cioè il mio obiettivo in questo momento, avendo già gestito tutte le mie posizioni di breve, tempo fa, medio, tempo fa, il 20% dell'hold, ero fuori, è tutto scritto sul mio canale YouTube, per quelli che poi mi scrivano i commenti, l'hai detto dopo, no non l'ho detto dopo, ero inciso sul canale YouTube, sul canale Telegram, e vai a vedere le posizioni pubblicate in live, ok? Non sono dette dopo. Tra le altre cose, ieri ho fatto una cosa su ETH, ragazzi, ho ridotto la volatilità, ma non è una cosa corretta, perché avevo fatto un errore precedentemente, ho dovuto sistemare, ma quando si sistemano errori, non si ci può andare ad aspettare chissà cose, quindi non l'ho detta lì, l'ho scritta solo in Academy, perché non è una cosa giusta da dire a chi non capisce determinate logiche, quindi è una sistemazione di una posizione sbagliata, che è un altro tipo di discorso, ok? Allora, andiamo a ragionare sul mensile, e poi, se il mensile parte, Bitcoin probabilmente ci darà risposta, se è il primo dell'annuale, se è il nuovo annuale, ma ci vuole tempo, quindi a me interessa in questo momento salire sul ciclo mensile, ok? Allora, vi faccio vedere questa questione qui, legata all'attuale fase, questo è il nostro grafico consueto, questa volta l'area di resistenza retto alla grande, dando il punto di uscita perfetto per il mercato, io in questa zona ho chiuso le mie posizioni, quindi non qui, perché non mi piace fare questa cosa su Bitcoin, le ho chiuse qui, quelle di breve e di medio, ovviamente intorno al 12-13 di maggio, e poi dovevo chiudere un'altra parte di hold che non ci sono riuscito, quindi un pezzettino di hold mi è rimasto attaccato, circa il 10-15% più o meno, dovevo chiuderlo, ma non ho, l'ho fatto. Allora, questa fase qui, ragazzi, ci dice che il ciclo mensile non è ancora finito tecnicamente, perché niente ci dà idea che sia così. Ora, la questione qual è? Che è un problema legato anche alla struttura dei minimi, in questo caso bisogna essere leggermente più larghi, perché Bitcoin è troppo volatile, per andare a considerare il giorno 19 come il giorno di chiusura, con un minimo, perché questo minimo del 19, ragazzi, e questo fatto ieri, secondo me, sono la stessa cosa. Da un punto di vista logico, chi conosce questo mercato sa che questo mercato eccede nelle volatilità, quindi andare a vedere le shadow con il minimo preciso non è una cosa che io faccio, ok? Per me questa è tutta una zona di possibile chiusura del ciclo mensile, ma anche se vado qui, ragazzi, mi porta 28 barre. Ora, 28 giorni sono sufficienti a chiudere un ciclo mensile? Sì, sono sufficienti. Il mercato, però, sta chiudendo anche i cicli superiori in questo caso, quindi il trimestrale, i semestrali e l'annuale. Quindi questa è una fase, proprio una fase estremamente delicata, non è un mensile normale. Poi ha fatto due mensili ribassisti, vedete? Addirittura anche TH ha fatto un mensile ribassista, lo vediamo tra poco, ragazzi, incredibile, ma fantastico se nel mercato di crypto riescono a fare cose magiche. Allora, questa situazione così ci porta a un'idea generale che questa fase sia tutta una fase estremamente delicata dove il mercato raccoglierà le forze, questa zona qui, e deciderà se gli basta questo minimo per chiudere questa fase del ciclo annuale o no. Quindi da qui, che siamo alla 24 di maggio, tutta questa zona qui, fino alle prossime due settimane, quindi al 10-15 di giugno, non c'è nessun modo di stare sui mercati con tranquillità. Ci sarà un po' di volatilità, di marette, dovremmo capire quello che sta facendo. La reazione di oggi è giusta, ma non è sufficiente per andare a darci un'indicazione di chiusura di un nuovo mensile. Questa è la problematica, ed è un problema non da poco, ragazzi, perché non è facilissimo andare in queste fasi ad avere degli appoggi guardando il grafico di Natura Daily. Adesso vi faccio vedere alcuni livelli. Quindi da un punto di vista di fase, da qui in poi ci siamo, ragazzi. Qui la struttura di chiusura dell'annuale è in fase corretta. Quindi qualsiasi minimo è buono, qualsiasi fase di bassista è buona per chiudere l'annuale, ma non è ancora sicuro che sia abbassato questo 30k. Questa è la cosa che dovete mettervi in testa. Non è un livello sicuro, cioè nel senso non abbiamo dati a sufficienza, il mercato non ha fatto dati sufficienti per indicarci che questa fase è completata. Allora, come agiamo in questo momento? Dovete essere dei trader, cioè dovete agire, o andate a fare il pack classico, da qui ai prossimi 20 giorni, 15 giorni, fate un pack fino a metà di giugno, su ogni minimo e raccogliete quelli che sono i coach. In questo caso, ovviamente ricordatevi che noi stiamo facendo un'idea con il fatto che poi parte un nuovo ciclo mensile e che sia rialzista e tutto ritorna normale, ma non è detto che sia così. Quindi ricordatevi che comunque, anche in questa fase, è possibile che stiamo sbagliando le analisi, ok? Io non do consigli finanziari, ragazzi, ok? Io vi dico cosa faccio io e basta, che è un altro tipo di discorso. Per cui, se volete ragionare in un certo modo, siete benvenuti sul canale. Se volete invece trovare la pappa pronta, andatevene da quelli che vi vendono, diciamo, i segnali magici e tutto il resto. Qui non è posto per queste cose, ok? Allora, in questa fase, è possibile andare tranquillamente a realizzare una specie di mini pack per tutti questi giorni, magari se il mercato segue questa logica, oppure, anche se continua a salire, potete fare. Se riprende da qua ha fatto il massimo, voi fate comunque un pack, andate a comprare in questi prezzi medi. Comprerete verso l'altro, ma vi blindate dall'ipotesi che se il mercato scende, poi che fate? Allora, voi intanto comprate, 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 se il mercato scende in pack, oppure il contrario, se il mercato sale. Ok, cosa cambia? Eh, la sfortuna, eh? Poi cose, ragazzi, dovete smettere di ragionare, a cercare di prendere i minimi o i massimi di mercato. Se volete fare i trader e gli investitori professionisti, dovete ragionare su una strategia più ampio respiro. Quindi, se stiamo cercando di salire su un mercato che ha fatto la sua fase, ma poi deve andare a ragionare su un nuovo ciclo mensile, ragazzi, ok? Allora, dobbiamo mettere in conto che a noi ci servirà questo tipo di orizzonte temporale. Quindi, non un orizzonte temporale da qui a due giorni, perché poi mi dite che fate gli holder, a volte mi arrivano mail, ragazzi, ci sono holder sul mercato, ho comprato ieri e il mercato è sceso. Se sei holder sul mercato, il mercato lo devi guardare fra dieci anni se dici di essere holder, allora sei un po' confuso, lo sei holder. Allora, se vuoi che il mercato sale il giorno dopo che hai comprato, devi fare il trading, non l'holding, ok? E sono cose differenti, ragazzi, ok? Allora, a quel punto ci sono delle tecniche che si fanno su time frame inferiori e cerchi di guadagnare 100 euro, ok? Ma non è quello il concetto. Quindi, imparate a ragionare con degli orizzonti, con delle idee, delle strutture correrenti a quello che state facendo, altrimenti mi incasinate. Va bene? Allora, in questa fase, come vedete in questa finestrella, Bitcoin può iniziare questo nuovo ciclo di natura mensile oppure può andare a fare ancora una fase di ribasso perché il tempo è sufficiente, come vi ho detto, fino a metà di giugno, va bene? Fino a metà di giugno, poi ovviamente più ce ne andiamo verso le code più diventa estremamente complesso, ok? Quindi, ovviamente, non ci aggiorniamo sul canale, ragazzi, sarà sempre così e non c'è problema. Al momento la soluzione per chi non ha grandi tecniche di trading per chi non usa trading system, la soluzione migliore è usare questi 10-20 giorni con un piccolo piano di accumulo se volete provare a salire su questo carro, quindi proprio un pack creato all'interno di queste strutture. Dividete i vostri ingressi e fate degli acquisti mirati dove la vostra strategia vi sta dicendo. In questo modo si smussa il problema del timing perché ieri eravamo a 30 e oggi siamo a 38, ragazzi, ok? Quindi le oscillazioni sono troppo importanti. Perciò, in questo modo, se non avete altri sistemi, riuscite a diminuire la volatilità e fate dei micro ingressi. Le crypto ve lo permettono perché non hanno costi di ingresso fissi, hanno costi variabili, quindi voi potete fare 20 operazioni, anche piccolissime, tranquillamente, ok? Quindi, sfruttate questa peculiarità. Poi, se il mercato supera determinati livelli, in questo momento il primo e il più importante è Aria 42,5-43, ve lo dico già direttamente, anzi, ve lo faccio vedere sul grafico di natura settimanale, ok? Questo vedete, tra l'altro, la mia finestra di top timing Aria Halving Cycle, cioè, secondo quelli erano le previsioni di un annetto fa, da qui in poi, da luglio a dicembre 2021, il mercato può tentare la sua fase di top, quindi se siamo nell'ordine giusto delle cose, il mercato chiusa questa fase di ribasso dovrebbe ripartire e cercare di fare il suo massimo storico. Se non è così, è un casino, vabbè, poi lo rivedremo dopo. Va bene, allora ragazzi, vi faccio vedere 42,5 questa fase sul grafico settimanale, scusate, questa fascia qui è il primo livello di resistenza. Ora, tempo fa, qualcuno magari se lo ricorda, io pensavo, ho detto, vabbè, questa settimana nel mercato fa una verde e poi fa lo sciacquone, invece ha fatto il contrario. Ci ha fatto lo sciacquone qui e adesso sta facendo una verde. Questa verde, ragazzi, è un inside, si chiama così in price action e non ha alcun significato. In pratica è il rimbalzo del gatto morto, cioè, non ha senso dal punto di vista di natura tecnica, quindi non si ci può andare a costruire strategie o roba del genere. Perciò, tutto quello che è questa fase ha un solo obiettivo, superare i 42,5. Se il mercato, invece, dovesse rompere addirittura i 47 al rialzo, allora, all'80-90% è iniziato un nuovo ciclo mensile. Questo ve lo dico in maniera molto chiara, se il mercato accelera non credo che farà così, però tutto è possibile, diciamo, in ogni caso ci aggiorniamo in settimana se fa una cosa del genere. Quindi, al momento, fin tanto che il mercato resta in questa fascia di oscillazione, anzi, faccio anche un'altra cosa, mi metto i 90 minuti che è uno dei miei grafici preferiti e andiamo a vedere Bitcoin, diciamo, in questa fascia. Ok, fin tanto che il mercato resta all'interno di questo super quadrato, non cambia niente, cioè questa è una zona di oscillazione del mercato, questa qui. Ok, quindi tutto quello che vediamo in questa fase non ha un impatto su quelli che sono i trend superiori. Poi, qui dentro, se rimane, si può fare un po' di trading range, si può fare un po' di pack, si può fare trading, guardate che gamba questa qui, però per esempio già qui, ragazzi, ve lo dico molto chiaro, è questo massimo che deve essere superato, questo qui ha 42,5, se il mercato non lo supera non cambia assolutamente niente. Ricordatevi queste cose, quindi oscillazione, proviamo a posizionarci, il timing è da qui a metà giugno per avere idea generale di quello che sta succedendo, per non perdere il treno, una soluzione molto pulita, semplice, lineare, in questo caso è il pacchettino. Va bene, allora vi faccio vedere al volo velocemente BNB ed ETH e abbiamo chiuso. Allora BNB, ragazzi, dal punto di vista ciclico, ci conferma quanto abbiamo detto, questa è la struttura di BNB con il ciclo annuale. Guardate la peculiarità di Binance Coin, è molto simile il ciclo annuale, il precedente, vedete, dicembre 2018, marzo 2020, e poi marzo 2020, più o meno, ragazzi, o qui, oppure, come vedete, ecco la mia paura, che è la stessa cosa l'abbiamo anche su ETH, è proprio questa fascia, ragazzi, di tempo che ancora il mercato avrebbe a disposizione per aggiornare i precedenti minimi fatti. In questo caso porterebbe anche la famosa Dominance che vi ho detto ieri a un livello superiore, quindi è pericolosa questa fase, ragazzi, può essere un bene o un male, ma qui ci vogliono un po' le tecniche, è difficile per i neofiti, quindi per i neofiti, ragazzi, o fate il pack o non fate nulla, secondo me, ma non do consigli finanziari, comunque, in ogni caso, questa è una fase, vedete che il mercato può ancora a livello tempistico andare a riempire con delle zone di nuovo minimo, anche su BNB, perché? Perché siamo più o meno nell'ottica del precedente ciclo annuale che era 4,60 e qui, ragazzi, secondo me i cicli annuali giorno più, giorno meno, chiuderanno tutti nello stesso giorno per tutte le più importanti cripto, in questo caso il 23 maggio per esempio per quanto riguarda BNB e Ethereum potrebbe essere la chiusura, sì, mentre abbiamo visto che Bitcoin non l'ha fatto il 23 maggio, avete visto già questa discrepanza, però BNB ed ETH, vedete, anche qui, hanno riportato questa fascia in questo modo, tra le altre cose su ETH vi faccio vedere questa chicca e chiudiamo il video, ragazzi, perché ETH ha fatto questa struttura da 150-160 giorni a 3, guardate che cosa simpatica perché l'ultimo ciclo, nonostante un super hype incredibile, serviva fosse ribassista e l'ha fatto ribassista perché era quello che ci serviva, guardate i minimi, 1 e 2, incredibile, questa è una cosa, ragazzi, che studia ciclica gli verrebbe da ridere perché dice ok, questo è un mensile, 18 aprile, è iniziato il mensile di ETH e lo deve fare ribassista per chiudere l'annuale, ragazzi, l'ha fatto, l'ha fatto ribassista, incredibile, eppure non era possibile, infatti qui aveva spostato veramente tutti i, insomma, a dire, come cavolo fa a scendere sotto qui e c'è riuscito, ragazzi, ieri è andato sotto, quindi il fatto che i mercati come TH e BNB ci stiano indicando che siamo in procinto di questa fase di chiusura del ciclo annuale è anche positivo, però anche loro abbiamo visto BNB c'è ancora tempo, quindi questi 10 giorni, ragazzi, questa settimana, nervi, saldi, ok? Fatemi sapere un po' cosa ne pensate, scusate per i video estremamente lunghi, ma le cose da dire in questa fase sono molto, delicate e soprattutto sono tante, ragazzi, quindi non ho, diciamo, voglia di fare video enormi, io, diciamo, preferisco essere molto sintetico, però questa è una fase anche molto delicata, diciamo, non siamo proprio come eravamo qualche mese fa, va bene, fatemi sapere cosa ne pensate, ci vediamo nel prossimo video, ciao!